Il rosso-nero arriva anche Oliver Kragl, uno scatenato Nember piazza all'ennesimo colpo di questo mercato invernale. Già da qualche giorno i rumors avevano affiancato il centrocampista tedesco al Foggia, poi l'accelerata nel fine settimana quando Kragl e la sua fidanzata, già nel mondo dello spettacolo, avevano annunciato il cambio di casacca sui social e l'arrivo a Foggia, questa mattina l'ufficialità. Oliver Kragl, classe 1990, parte dalle categorie inferiori tedesche, dall'Eintracht Braunschweig per l'esattezza, fino a trovare maggiore fortuna nella Bundesliga austriaca, nelle file del Ried, dove con il suo mancino potente e preciso sigla anche 12 reti in 85 presenze, attirando le attenzioni della Serie A. Arriva in Italia, infatti, nel gennaio del 2016, grazie al Frosinone, dove segna anche una rete al Milan su calcio di punizione da 40 metri, la sua specialità preferita. Poi la Serie B con gli stessi ciociari, fino al passaggio a Crotone nell'estate scorsa, solo 5 presenze in Calabria e ora il suo rilancio in prestito. Si affianca a quello del nuovo Foggia, targato Nember, già 5 colpi definitivi del nuovo DS e altri che sembrano in dirittura d'arrivo. Nura e Sadik, terzino e attaccante dalla Roma, Dainelli o Calabresi per la difesa, Perina o addirittura Gabriel in porta, Busbiba e Duhamel in attacco. Il DS rossonero non si ferma più, così si vedrà in campo un Foggia tutto nuovo a gennaio.